Senza anteriori Aladino Indal e Amazing Cuff senza ferri Arro WF ma il favorito netto è Argo Lux numero 6 a quota infinitesima quando mancano 200 metri allo stacco della macchina e l'allineamento è ben confezionato con la sola smira che si ritrae a 150 dallo stacco. L'errore per il numero 1 Aladino Indal macchina che lascia i concorrenti con il numero 6 di Argo Lux che prova a scendere la corda trova l'opposizione di Amazing Cuff che rientra più indietro Arro WF lungo la piegata Argo Lux che insiste Amazing Cuff che però non vuole concedere spazio e così con il favore della curva rientra l'avversario che scende a miti consigli e si pone in seconda posizione. Passaggio ai 400 veloci in 28 per la leader con Amazing Cuff quando siamo adesso di fronte davanti alle tribune Amazing Cuff al comando con Argo Lux che risposta all'esterno. 600 in 45 e 9 c'è stato un cospicuo rallentamento da parte del battistrada intanto la sua schiena è stata presa da Arro WF e ora Argo Lux che si ingamba per linee esterne va a pungolare il battistrada al paletto di metà gara la schiena di Argo Lux è presa da Amore Bello quando siamo di fronte con un paio di pariglie davanti a tutti al paletto del chilometro che viene via nell'ordine dell'1.16.2 ora è pressante l'azione di Argo Lux nei confronti di Amazing Cuff che però reagisce ancora e ritorna davanti all'imbocco della piegata conclusiva con Antonio Di Nardo che prende ancora un pochino in mano con Amazing Cuff al comando Argo Lux all'esterno poi più indietro c'è sempre il numero 2 di Amore Bello l'addirittura di arrivo con Argo Lux che si riorganizza Amazing Cuff che si difende Amore Bello che scatta in mezzo alla pista quando siamo agli ultimi 150 metri di corsa con Amore Bello che è molto incisivo nel finale Amazing Cuff si mantiene in evidenza Amazing Cuff che nel finale si salva dal ritorno di Amore Bello che però può essere solamente seconda 1.59.5 sul cronometro 1.14.8 la media per Amazing Cuff Antonio Velotti che ha resistito per tutto il percorso agli assalti di Argo Lux nel finale si è difeso anche dal ritorno di Amore Bello che si avvicina ma non raggiunge l'allievo di Antonio Velotti che negli ultimi metri mantiene una testa di vantaggio il training è quello di Klaus Holman i colori della scuderia Lucia il terzo posto è in foto stretta tra il numero 4 di Arro Cuff e il numero 6 di Argo Lux il terzo posto è in foto 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 il terzo posto è in foto